Bene trovati amici di Ceopomo, nuovo appuntamento con il meteo, oggi siamo in via Diaz perché alle mie spalle c'è una delle 20 ville più care in vendita in Italia sul sito luxuryestate.com, infatti è possibile trovare questa villa costruita nel 1920 e di proprietà della famiglia Mantero tra quelle in vendita appunto in questo sito di Ville di Russo, quasi 16 milioni di euro il prezzo attualmente per acquistarsi questa splendida villa da sogno proprio nel centro città Occhi puntati sul ponte del 25 aprile come sarà il tempo nei prossimi giorni soprattutto sul territorio comasco tra oggi e domani i cieli saranno abbastanza soleggiati salvo innocue velature con temperature che raggiungeranno i 21-22 gradi mentre domenica arriverà la seconda perturbazione attesa di questa settimana sulla penisola che porterà piogge e cieli coperti durante tutta la giornata in particolare si segnalano una diminuzione delle temperature e raggiungeranno infatti 13 gradi nei valori massimi e siamo in via volta insieme alla signora Agnese di Binago che quest'oggi ci legge il proverbio della giornata il proverbio comasco, cosa ci dice quest'oggi? i testar e i litiga ingrassano gli avvocati i testar e gli attacabriga ingrassano gli avvocati e allora anche con questo il meteo tra storia e proverbi termina qui l'appuntamento per settimana prossima su Ciao Como Radio seguiteci anche su Twitter, grazie alla signora Agnese un saluto a tutti e buon ponte del 25 aprile ciao a tutti